Stabilita la data di partenza per la clinica di Miami, Emanuele Scifo lascerà l'Italia il 3 novembre. In America, dopo una visita preliminare, ci sarà una fase di valutazione che durerà circa 20 giorni, anche se già l'ospedale ha dato poche speranze per il trapianto, poiché il quadro clinico è peggiorato. È da luglio, infatti, che tramite la clinica Sant'Ursola di Bologna, gli esami di Emanuele vengono comunicati a Miami e il suo attuale decadimento organico preoccupa i medici. Emanuele, prima della partenza, ha deciso di mantenere il silenzio stampa per affrontare questa fase serenamente con la sua famiglia, la sua fidanzata e i suoi amici. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che mi sono stati vicini, moralmente e materialmente in questi mesi. Grazie a loro, alla mia famiglia e alla mia fidanzata, ho la forza per fare quest'ultimo tentativo a Miami. Ringrazio la Regione Campania e l'ASL per il finanziamento, che purtroppo però giunge in ritardo rispetto alla mia situazione. Spero solo che la mia vicenda possa essere da esempio, affinché non accadano più casi del genere. Il cittadino ha diritto alla salute e alla vita. Non so quale sarà il mio destino, ma posso assicurarvi che sono sereno e che nel mio cuore c'è gioia per la solidarietà e l'affetto che ho avuto da migliaia di persone che non dimenticherò mai. Attingo da loro la mia forza per andare avanti e sperare. Ogni giorno per me è un dono, anche se il mio percorso dovesse interrompersi, sono sereno per quello che ho avuto finora. Saluto e ringrazio gli organi di stampa per la collaborazione, ma ora, prima della partenza per Miami, ho bisogno di tranquillità. Chiedo quindi silenzio stampa che utilizzerò per ricaricarmi e pregare che vada tutto bene e che possa ancora vincere questa battaglia. Con affetto e riconoscenza, Emanuele.